che bestia ce ne intendiamo eh sì ne abbiamo una qui eh allora andiamo a vedere questa fotografia Sam stai attenta guardiamo questa fotografia questo gigantesco bovino si chiama bue bicornuto mammut dei vatussi corno d'africa corno d'africa e purtroppo no mi dispiace Sam no risposta sbagliata via 300 franchi dal monte premi che arriva a 2100 franchi cari amici è qua insomma io vi voglio belli attenti lo so che lunedì però insomma anche se il treno passa di lunedì prendiamolo questo treno Deborah Dragan o Roman chi non la sa andiamo con Dragan Dragan dei vatussi? dei vatussi risposta esatta sì si tratta di una razza domestica allevata nella regione africana dalla popolazione dei vatussi pesa circa 700 kg e raggiunge altezze al garese anche di un metro e ottanta quelle che io posso raggiungere soltanto nei sogni ecco è nella fantasia è nella fantasia e anche munita di tacchi raggiungo quelle altezze lì e il garese della Clio? 6 centimetri al garese? poco più poco più ma lo sai che secondo me soffrirei le vertigini se riuscissi ad arrivare a quelle altezze lì un metro e ottanta di garese? no non me la vedo ma io? no no ah proprio non vede me? no non me la vedo va bene Dragan freghilosso a Sam grazie vengo allora Dragan hai riposato il weekend sei bello fresco si si come una rosa come una rosa ci sono ancora 5 giochi Dragan lo sai che quell'osso lì come dire mi dica lei tabellone dai che di solito ne invento io sempre come una cozza allo scoglio si è aggrappato a Dragan e dura sarà a levarlo da lì ma lo vedremo solo giocando come una cozza attaccata allo scoglio Dragan prego il contaclio? il contaclio si come va col contaclio Dragan di solito? meraviglia una meraviglia oh vede vede allora prepariamo le manine le manine andiamo a contare le clio bianche e anche quelle nere prego dragan ti sei già perso subito e hai gettato la scuola? no 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 contatto fino in fondo contatto fino in fondo quante clio bianche quante clio nere sono rimaste nella cuccia non è che bisognava contarle tutte così zero a zero eh vediamo la verifica ed è la risposta esatta Dragan si zero e zero molto bene torniamo alla nostra griglia mancano quattro giochi four steps